Voglio dirvi soltanto che non è un video che vi invita ad investire, ma semplicemente un video tutorial, raga, dei siti che porto ultimamente, che sono tipo questi ultimi tre, ultimamente, raga, stanno spopolando molto questi siti che li trovate nella mia playlist, che si chiama, ve la lascio alla fine di questo video, guadagno passivo cripto, sono siti, raga, che praticamente ci danno modo di fare una sorta di minaggio, in cui noi investiamo una cifra che, diciamo, non è molto alta, delle cifre bassissime, e poi guadagniamo delle percentuali in base alla cifra che viene investito. Ovviamente è un video dimostrativo e vi faccio vedere anche il mio investimento, e se investite, raga, di così, investite sempre consapevolmente e ciò che potete permettere di perdere. Detto questo, raga, il sito di oggi, eccolo qua, si chiama rabbit.cc, il sito si presenta in questo modo, ovviamente vi dovete registrare, inserite l'email, password e anche la password per la transazione, che è diversa dalla password di registrazione, che deve essere di 6 cifre numerica, inventata da voi. Vi trovate qui, quindi il link ve lo lascio in descrizione, e inizierete con 11 USDT, 11 data USDT, che stablecoin sarebbero 11 dollari. Una volta che iniziate dovete semplicemente ricaricare, e ovviamente abbiamo questi livelli qui, che sono dei livelli VIP, chi di voi segue il mio canale conosce questi siti, sono molto uguali tra loro. Allora, lo stato attuale, il VIP 0, praticamente, noi dobbiamo completare delle task, delle task tipo andare in un social, task che durano tipo 5 secondi, raga, dopo vi faccio vedere, e ovviamente il VIP 0, ci dà 0,20 centesimi di dollaro al giorno. Mentre il VIP 1, che è questo qui, praticamente, eccolo qui, scusatemi raga, VIP 1 ci dà praticamente, con una ricarica minima di 20 USDT, ci dà praticamente 2 tasche al giorno, per un totale di 1,80 dollaro al giorno. E al mese sono 54 USDT, quindi, raga, un bel investimento con 20 USDT. Poi c'è il VIP 3, ovviamente durano sempre 2 task da fare, però più andiamo ad investire, più è alto il prezzo delle task che ci pagano. Quindi 9 USDT al giorno, questo qui 160 USDT per un totale di 29 USDT al giorno, e su via, raga, qui ci sono tutti i livelli VIP. Ovviamente io vado ad investire nell'1. Per investire, raga, ovviamente, con 11 dollari, basta andare prima a ricaricare. Qui c'è ovviamente l'area in cui, se invitiamo le persone, vedete, abbiamo anche delle, oltre al 10% di ciò che guadagnano i nostri REF. Abbiamo anche dei bonus, ovviamente, per esempio, vedete, livello 1, 20 USDT. Ovviamente, anche sulle ricariche, più si investe, più ci danno dei bonus tipo 9 USDT, insomma, per 120 USDT di ricarica, però questi sono prezzi, insomma, per me un po' troppo alti, che vi consiglio. Allora, bisogna andare prima in research, voi andate a ricaricare, mettete gli USDT, mettete l'ammontare che, con 11 dollari, ovviamente, dovrà essere tipo 9, rete TRC20, fate research now, e vi darà questo indirizzo da copiare, che poi lo andate ad incollare sia in Binance, Coinbase, dovunque volete, dove avete, insomma, questi 9 dollari, per arrivare a 20 dollari, quindi comprare il livello 1. Dopo due minuti, neanche, raga, ve li trovate in la sezione My, qui nel vostro Balance, e andiamo negli account VIP, e io vi faccio vedere, vi compro il livello 1, che sono due task, e sono 1,80 dollari al giorno. Faccio Join Now, faccio Confirm, e vedete, ho comprato il livello 1. Adesso che cosa devo fare? Vado in Home, una volta che l'ho comprato, e devo risolvere solo due task ogni 24 ore. Vado a premere sul mio livello attuale, e vedete, apro il link, neanche un secondo, faccio Submit, e ho guadagnato 0,90. Apro quest'altro link, vedete, ci indirizza in delle pagine, Twitter, Facebook, non dobbiamo neanche starci sopra, raga, praticamente si apre soltanto, facciamo Submit, e vedete, adesso ho finito le task, praticamente devo ritornare fra 24 ore, e me ne ricompariranno altre due. Rifacendo lo stesso processo, quindi andare nella Home principale, andare a cliccare sul mio livello, che in questo caso, aspettate, raga, scendo, è questo qui, ci clicco sopra, e vedete, qua mi uscirà la task, quindi fra 24 ore. Adesso, vedete, io nel mio balance, praticamente, ho 21,80 dollari, ho guadagnato 1,80 dollari. Adesso vediamo il processo di prelievo, Withdraw, andate in Withdraw, dobbiamo ovviamente settare il metodo di pagamento, quindi facciamo Confirm, dovete mettere il tipo di network, che deve essere solo TRC20, quindi confermiamo, e l'address, l'address ovviamente, raga, sarebbe la stringa di portafoglio, che non vi faccio vedere per motivi di privacy, comunque si deve copiare e incollare la stringa TetherUSDT TRC20, incollarla e fare Add Now. Dopo aver fatto questo, raga, vi dico solo anticipatamente, prima di mettere, insomma, la task, aspettate, lo stop un attimo e poi vi faccio vedere. Ecco qui che vi uscirà, raga, scusatemi perché praticamente per motivi di privacy non potevo far vedere la stringa, come comunque vedete, è stato accreditato, è stata settata la vostra stringa. Adesso, vedete, io ho 1,80 dollari, già il vostro profitto, praticamente, già lo potete ritirare, quindi dopo un giorno, quei 20 dollari, il profitto iniziale, con tutta la cifra che è stata guadagnata, la potete ritirare, sia 1,80, sia la vostra cifra che è stata guadagnata. Quindi, raga, questo è tutto il sito, ovviamente abbiamo il piano referral, che ve l'ho fatto vedere, dove guadagniamo, ovviamente, su tre livelli diversi e ci danno anche dei bonus, vedete, livello 1, livello 2, livello 3, 10%, 5% e 2%. E su questo, raga, per limitare le persone, se non volete investire, usate il mio gruppo Facebook, che si chiama Cashout Soldi Online, ve lo lascio sotto in descrizione, raga, dove trovate 6.000 membri, più di 6.000 adesso, e potete pubblicare tutto quello che volete per farvi qualche referral. Detto questo, raga, se non avete capito qualcosa, c'è anche in descrizione il contatto Telegram dell'assistenza per contattarla, quindi sito molto serio e pagante attualmente, o contattate me sotto nei commenti, io vi invito a lasciare anche un like al video per supportare il mio canale, detto questo, ragazzi, vi auguro a tutto un buon guadagno dal vostro video.